Un convegno internazionale per discutere di pace, lavoro e libertà organizzato a Milano dai partiti comunisti europei. Occasione per il segretario generale dei comunisti Marco Rizzo di celebrare il 25 aprile. Ascoltiamo le sue parole. Equiparare il comunismo al nazismo è un'aberrazione storica, politica, morale. Senza l'armata rossa ci sarebbe ancora Hitler a governare. Oggi il capitalismo usa il fascismo per uscire dalla crisi. Antifascismo significa essere anticapitalisti.